Un saluto da Mitolcino, io sono Simone Mariam, oggi vi voglio presentare un ospite davvero speciale, Cosimo Massaro, scrittore, esperto di politiche monetarie e promotore della dottrina auritiana, ha scritto numerosi libri tra cui Scontro Globale, Usurocrazia Svelata e Attacco alla Civiltà Cristiana. Ciao Cosimo, come stai? Benvenuto sul nostro programma. Ciao carissimo, grazie di cuore per l'invitato, per me è un piacere stare qui con te e con tutti coloro che avremo il piacere di ascoltarci in seguito. Grazie mille per aver accettato il nostro invito, è un onore averti qui. Allora io vorrei aprire l'intervista chiedendoti di introdurre questi due libri, il cui titolo secondo me è fondamentale per capire cosa sta succedendo e sono Scontro Globale e Usurocrazia Svelata, di che cosa trattano? Allora partiamo da Usurocrazia Svelata perché con la prefazione del professor Meluzzi, in pratica all'interno di Usurocrazia Svelata ho raccolto tre saggi che avevo già scritto da parecchi anni, cioè diciamo è un lavoro 15 anni. Avevo scritto che cos'è il signoraggio bancario, euro, disastro e attacco alla civiltà cristiana. Quindi anticipando di parecchi anni quello che noi oggi stiamo vedendo davanti agli occhi, anche l'attacco alla civiltà cristiana. Abbiamo visto ultimamente che cosa è arrivato dall'Europa che non volevano nemmeno che si usassero le parole natalizie o i nomi di origine voglio dire cristiana. Guarda, stiamo arrivando veramente a raschiare il fondo, ma queste cose oramai se ne accorgeranno un po' tanti. Quindi li ho raccolti in un unico libro appunto dal titolo Usurocrazia Svelata. Usurocrazia perché ho raccolto, diciamo, attraverso questo titolo, preso in prestito come nome, come termine dal poeta Ezra Pound, che aveva identificato il problema prestandolo e mettendo sotto scacco tutti i popoli del mondo attraverso il debito. Cioè non aveva, per dire come fatto Marx, indicato nella lotta di classe tra l'operaio e magari il datore di lavoro o la classe borghese. No, lui era andato molto più sopra, in effetti andando ad evidenziare il problema nei creatori del denaro. Usurocrati, usurai, che non sono usurai di quartiere, intendiamoci, sono proprio i creatori del denaro dal nulla che creano dal nulla questa moneta e indebitano tutti i popoli del mondo. Quindi preso in prestito questo termine da lui, ci ho aggiunto sotto un'altra parola molto importante, quindi come dire dobbiamo partire sempre dai titoli e dall'importanza delle parole. Ci ho aggiunto sotto una parola che è svelata. Ecco, qua c'è anche dietro uno studio dietro la parola svelata. Non nasce a caso, perché avrei potuto scrivere anche rivelata, cosa che non è molto corretta. Io parto, ad esempio, per fare un esempio sempre dall'Apocalisse, no? Apocalisse significa rivelazione, significa, ecco, che non è nemmeno il termine corretto, dove cadono tutte le maschere, tutto si scopre. Però, vedi, entrando nel merito dell'ingegneria sociale e dell'utilizzo delle parole, molto spesso utilizziamo le parole con un senso negativo, senza che ce ne rendiamo conto. Se ad esempio avessi usato la parolina sotto, rivelata, ecco, quel termine non è corretto nemmeno, perché noi pensiamo in maniera non corretta che significa che le cose si scoprono. In realtà no, non è così. Ti faccio riflettere su questa parola, rivelazione, cioè ricollocare un velo, un ulteriore velo, su una verità. Rivelo. Rifletti, perché Simone è molto importante. Sono molto importanti le parole. Noi in effetti le utilizziamo a volte inconsciamente, dando, come dire, energia a una parola che in realtà ha un senso negativo. Il termine corretto perché ho utilizzato svelata? Perché svelo, cioè tolgo il velo da una verità e quindi la metto alla luce. Questo è fondamentale, capire le parole, perché ad esempio anche oggi ci etichettano complottisti. Anche lì un'inversione del significato della parola. Il complottista non è colui che ordisce, cioè colui che svella il complotto, bensì colui che ordisce il complotto. Invertono, come dire, i significati delle parole. Comunque, con usurocrazia svelata, vado a svelare appunto tutti gli arcani segreti che ci sono dietro la creazione della moneta, partendo dalla sua storia, le sue origini, capire che cos'è la realtà sia materiale e spirituale della moneta. Mi affido agli insegnamenti del professor Giacinta Uriti, che si è contrapposto contro i poteri bancari internazionali, professore di diritto, anche di economia, fondatore dell'Università di Teramo, un personaggio veramente grande. È stato bloccato in tutti i modi. Per accennare giusto qualcosa, lui già nel 1993 denunciò Ciampi e Fazio per usura, truffa, falsa in bilancio o istigazione al suicidio. Era avanti veramente anni luce. Aveva anticipato la cultura gender già negli anni 70, partendo dai concetti filosofici, di cui è tema che tratto poi nell'ultima parte di questo libro, Attacco alla civiltà cristiana, dove svelo appunto le dinamiche che ci sono dietro l'ingegneria sociale, gli strumenti della manipolazione del pensiero e delle masse, quindi la finestra di Overton, la rana bollita di Chomsky, le dieci regole della fabbrica del consenso di Chomsky e tante altre tecniche che utilizzano a livello sociale per indottrenarci. Meccanismo che è servito a svuotarci dei nostri profondi valori basati sulla nostra tradizione storico-culturale e anche religiosa e spirituale per riempirli poi con altri valori funzionali, anzi valori, io li chiamerei disvalori, funzionali al turbocapitalismo e all'homo economicus. Quindi dobbiamo stare molto attenti tutti noi, il lavoro certosino che hanno fatto queste élite, e capire dove ci hanno, scusa il francesismo, fottuti. Quindi riprendere un po' ciò che faceva parte di tutto il nostro bagaglio, capire cos'era importante, se c'erano delle cose sbagliate, correggerle, ma non buttare tutto, come dire, buttare il bambino con l'acqua sporca, come si dice. Questo, e ti ho fatto una sintesi, diciamo, di surrograzia svelata. Scontro globale è stato scritto in piena pandemia, dopo pochi mesi dopo la pandemia, scrissi un articolo appunto dal titolo Scontro globale, che è piaciuto veramente tanto. Ha girato in tantissimi giornali, online, anche sul mio blog, veramente ha girato tanto. Da lì mi sono accorto che era, come dire, tutto l'elenco di un libro, che ho approfondito poi capitolo per capitolo. E sono stato tra i primi a parlare poi di battaglia spirituale. Sono stato veramente tra i primi. Questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché ho aperto una strada che oggi tutti, tanti, tantissimi stanno seguendo. Perché effettivamente quello che sta accadendo in questo periodo storico è una vera e propria battaglia spirituale che si sta manifestando sul piano terreira. E niente, poi magari con qualche tua domanda approfondiamo anche queste tematiche che tratto in scontro globale. Certo, certo. Mi viene in mente, la prima cosa che mi viene in mente quando hai detto che loro manipolano le parole è una frase di Jacques Derrida che disse che nulla esiste fuori dal testo. Quindi loro operano all'interno del testo e sono dei maestri di illusione. E attraverso... Beh, noi attraverso le nostre parole noi creiamo la nostra realtà. Diciamo in poche parole. Perdona il gioco di parole. Però ripetendomi una cosa anche a me stesso io poi dopo divento in qualche modo quella cosa. Quindi come io posso autodirigere il mio cambiamento può anche essere eterodiretto se non ho veramente una consapevolezza di me e non ho obiettivi nella vita. Perché credo che magari molti vengono manipolati perché non hanno veramente degli obiettivi nella vita non hanno dei valori fondanti, no? Come si dice? Si aggregano a quello che succede e va bene così. Ti faccio un esempio veramente molto banale e banalissimo. L'altro giorno ero a far benzina ho fatto benzina e fuori è arrivato un ragazzo che conosceva evidentemente il benzinaio e ha detto cosa fai tu di bello in questi giorni? Cosa fai per le vacanze di Natale? Eh, vado a sciare non vedo l'ora di andare a sciare. Io lì mi sono accorto mi sono anche accorto, sì? Che c'è un numero di persone che vivono in una realtà completamente diversa dalla mia e non hanno assolutamente consapevolezza di quello che sta succedendo. Ma non perché non devi andare a sciare tu fai molto bene ad andare a sciare. Però il modo in cui vengono affrontate queste cose mi fanno capire che c'è tutta un'umanità che non ha veramente compreso ecco e che vive alla giornata e va bene così e dice ma perché perché vi lamentate tanto per fare una puntura o per mostrare un lascia passare? Tanto avete già dovete già mostrare i documenti quando andate a fare certe cose avete già la carta di credito che vi controlla perché dovete tanto che succede? Quindi questo mi aveva già svelato che come si dice ci vuole una consapevolezza di sé ecco e poi come hai detto tu è una una battaglia spirituale dove ci sono masse inermi che non sanno nulla e ci sono persone più consapevoli che stanno provando a io credo che noi siamo un po' il germoglio del nuovo mondo io non voglio credere che la nuova normalità sia quella che mi dicono loro cosa ne pensi? Hai detto no no sono in perfetta linea con quello che hai detto tant'è vero partendo dalla tua prima frase in effetti noi siamo pensiero forma pensiero cioè il pensiero che diventa forma quindi attraverso il nostro pensare che si manifesta attraverso la parola perché la parola è energia noi concretizziamo la realtà che abbiamo anche davanti ai nostri occhi ma mi viene in mente il il Vangelo di San Giovanni pure il verbo si fece carne questo è fondamentale da capire perché non è una una frase fatta così cioè il verbo che è la manifestazione del pensiero è energia è frequenza c'è tutto l'universo energia e frequenza e appunto la parola una volta immessa nell'universo vibra continua a vibrare e continua a manifestarsi e a manifestare la realtà che noi immaginiamo e pensiamo siccome questi signori tra virgolette questi geni del male conoscono bene queste dinamiche sanno bene come manipolare le menti umane per portarle al loro vantaggio perché fondamentalmente per loro è come se fossimo delle batterie noi cioè noi siamo la loro energia sia da un punto di vista dell'energia negativa di cui loro si nutrono oppure sia dell'energia della costruzione di un nuovo mondo che vogliono costruire davanti ai nostri occhi e come sono riusciti a farlo attraverso ad esempio un incantesimo di massa che è passato attraverso quella scatolina la televisione e tutti i mass media che hanno impostato una comunicazione basata sulla paura sul terrore sulla manipolazione mediatica facendo come dire avere paura le persone del vivere quindi del vivere quotidiano la paura di abbracciare un nonno una zia uno zio un parente un amico attraverso questa manipolazione della coscienza delle masse hanno instaurato una nuova consuetudine cioè una nuova realtà che diventa consuetudine e a quel punto la nuova società si manifesta davanti ai nostri occhi quindi addirittura con delle leggi perché le leggi nuove si rifanno in virtù di una nuova consuetudine riescono a cambiare anche le leggi attraverso questi meccanismi manipolatori e allora bisogna avere veramente quella forte coscienza di capire come si muovono per evitare di cadere nei loro inganni ed è fondamentale e tu hai detto benissimo hai visto questo ragazzo ah io vado a sciare una cosa è andare a sciare per svagarsi per staccarsi un po' anche da tutto ciò che ci sta accadendo attorno perché dobbiamo recuperare energia ma sciare anche con consapevolezza di ciò che ci stanno facendo attorno perché io immaginarmi di vivere sì è vero che siamo già super controllati ma l'iper controllo che poi mi fanno diventare realmente un animale nell'astia oppure come diceva sempre nell'apocalisse san giovanni che nessuno poteva comprare e vendere se non aveva il marchio della bestia cioè io dico oggi anche al più ateo che tu giustamente puoi rimanere anche ateo però devi riconoscere in maniera intellettuale che nel momento in cui ti hanno affibbiato un codice QR personale individuale gestito dall'agenzia delle entrate che rispecchia un codice a barre delle merci che stanno sui supermercati sugli scaffali dei supermercati quindi ci hanno etichettato come merce già dove nel momento in cui ti abbineranno pure una moneta solo elettronica perché è tra i punti fondamentali del nuovo ordine mondiale e del grande reset dove non potrai più comprare o vendere con quella moneta se non hai il codice QR beh se sei un libero intellettuale chiami il marchio della bestia chiamala come vuoi ma il controllo totale sul tuo individuo è palese cioè negare questa cosa è evidente è proprio non sarebbe corretto è chiaro certo prima hai citato Ezra Pound no? io ricordo che Ezra Pound era stato forse uno dei primi tra l'altro un artista a comprendere il grande inganno che c'era nelle banche e ricordo che molto anziano aveva lasciato tutto in mano a Justiz Mullins che è il suo beniamino e ricordo di aver visto di questo Justiz Mullins che ora è morto dei video nei quali diceva che ci stanno conducendo verso il collettivismo ed è questo secondo me è un po' dove ci vogliono condurre allora sì questo è la tematica che anche cioè lì sono stato un po' tra i primi a denunciare questa cosa insieme al grande reset che cosa stanno operando ora loro la teoria che ho riportato è che è palese oggi cioè a distanza di un anno oramai non dobbiamo aspettare sai che tra virgolette il confrottista parli e le cose accadono tra dieci quindici anni no cioè oggi parli domani sono già cadute cioè parlavo di codice QR pagavo di reddito di cittadinanza universale pagavamo di esproprio della proprietà privata cioè vedi oggi stanno parlando di aumentare gli estimi catastali dall'Europa dice che se non le case non saranno in regola con con i diciamo con l'ambientalismo con i consumi con queste cose non si potranno vendere ma cioè chissà che cosa ci faranno dietro per espropriarci quindi che cosa voglio dire loro loro hanno fatto questa cosa hanno generato il collettivismo va verso la popolazione quindi io dico sempre teoria che ho riportato e che comunque si sposa con quello che sta accadendo si è unito il peggio del neoliberismo occidentale rappresentato dalla moneta debito cioè i creatori del denaro dal nulla come dicevamo prima che indebitano tutti i popoli del mondo che ti hanno espropriato attraverso il debito cioè ti hanno dato una falsa proprietà privata però hai dalla loro parte hanno tutti i debiti nel senso sono proprietari dei debiti della tua vita perché tu devi lavorare 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 per pagare il debito pubblico che non si ripagherà mai devi ripagare i debiti i mutui e siamo ricattabili quindi la moneta debito il neoliberismo si è creata una santa alleanza con quel modello che ha perché la Cina non è che è uscita da un momento all'altro così all'improvviso cioè la Cina si è sviluppata dopo la caduta del muro di Berlino con la globalizzazione con i miliardi miliardi che sono stati investiti dall'Occidente in Cina quindi pensa a BlackRock pensa a tutte le multinazionali dell'Occidente che hanno portato tecnologia lì quindi lì si è nato appunto quell'esperimento iniziale di santa alleanza tra virgolette santa tra il comunismo ateo quindi che domina attraverso una dittatura e ha generato una società collettivista nel senso che meno con i soggetti che sviluppano un libero arbitrio ma più una coscienza quasi da sciame d'appe senza nessuna offesa cioè con una coscienza più collettiva appunto abituati ad avere un dittatore o una classe dirigente al di sopra che li controlla per ogni minimo movimento quindi lì in Cina ad esempio si è sviluppato il controllo totale elettronico oppure videocamere green pass tipico lì che hanno un codice per pagare per vendere una moneta elettronica campi di rieducazione se tu non ti comporti bene ti rimandano nei campi di rieducazione e la moneta ti viene data anche in alcuni posti della Cina se ti comporti bene ti danno dei crediti se ti comporti male te li tolgono cioè quindi un mondo che hanno generato già lì come esperimento però rimanendo nel periodo della globalizzazione perché hanno generato questo e hanno fatto diciamo questo esperimento già lì perché poi lo hanno allargato in tutto il mondo con la pandemia perché è stata la scusante la pandemia però ritornando un po' indietro ti faccio notare Simone che la Cina dopo con la globalizzazione ha come dire invaso il pianeta di merci a basso costo cioè in tutti questi trent'anni noi abbiamo visto questo lavoro fatto dalla Cina e dall'Oriente non solo la Cina come punto di riferimento ma tutti i paesi diciamo orientali Indonesia sai tutti quei posti lì si sono abbattute tutte le produzioni interne dei nostri paesi e in primis l'Italia nazione ad alto tasso manufatturiero e oggi capiamo anche gli accordi che Prodi faceva con la Cina cioè di importazione di merci a basso costo senza nessuna tutela delle nostre merci quindi come facevi a paragonare un'economia dove la nostra aveva già fatto lavori sul sociale i diritti del lavoro cioè avevamo raggiunto un equilibrio veramente buono anche per i lavoratori e paragonarlo con un'economia dove il diritto del lavoro era zero 7 miliardi di persone che dovevano lavorare in pieno sviluppo è normale che arrivavano magari camicie a 5.000 lire all'epoca a 10.000 lire e le nostre camicerie hanno chiuso dopo a distanza di 30 anni noi italiani indossiamo le camicie cinesi e i cinesi indossano le camicie di dolce gabbana cioè non è una battuta ma è una realtà di fatto purtroppo allora quindi vedi questo processo della globalizzazione comunque è stato solo temporaneo perché non era il fine ultimo il loro fine è sempre quello ultimo era del nuovo ordine mondiale meglio definirlo nuovo disordine mondiale perché loro vanno contro l'ordine naturale delle cose in effetti sono promotori del caos più che altro questi signori luciferini quindi contro l'ordine naturale delle cose questo periodo della globalizzazione è finito tant'è che sono partiti con il grande reset e col falso ambientalismo ci hanno esportato il modello cinese a livello sociale quindi espropriazione vorranno raggiungere questi livelli di espropriazione di tutta la proprietà privata un reddito di poste mangime per i polli nella stia e niente non devi possedere più nulla tant'è che il loro slogan è non ho nulla e sono felice sai una bella ragazza che si presenta dice non ho nulla e sono felice questo è lo spot dei signori di Davos del World Economic Forum di cui Zuvab è il suo promotore mentre l'elite non mirerà sicuramente a perdere la loro proprietà privata naturalmente ecco un po' lo scenario è questo quindi diceva bene prima sul discorso collettivistico che non è solo quello e vado in conclusione quindi si sono uniti tre elementi dittatoriali del peggio del peggio di una società distopica il neoliberismo e la moneta debito il nazismo con la sua eugenetica quindi vedi il discorso vaccinale obbligatorio e tutto ciò che stanno facendo dietro a questa pseudopandemia e poi il sistema sociale di stampo comunista chiaro? sono tre gli elementi che stanno formando la società del futuro di cui vogliono loro essere solo l'elite per poi governare su una popolazione possibilmente dimezzata anche secondo la scuola malthusiana che dice che siamo troppi sulla faccia della terra mi viene da chiederti e se si fosse invece spezzato questo questo ordine agli alti vertici potrebbe essere successo qualcosa? sì per un momento si è spezzato è stato quando Trump è andato al potere è diventato presidente degli Stati Uniti d'America lì sono stati due granelli di sabbia molto grossi che si sono messi nell'ingranaggio ben oleato del sistema perché non pensavano proprio che Trump potesse vincere ha dato un freno a questa cosa qui e poi c'era una certa simpatia tra Trump e Putin in effetti e poi in tutti i modi sono riusciti come dire ad abbattere in parte questa cosa ma il messaggio che voglio lanciare ora è quello estremamente positivo cioè non è che il bene ha finito di lavorare è chiaro? quindi loro stanno portando avanti questi progetti ma il bene sta continuamente lavorando momentaneamente sotto ma sta operando ok? di questo ne sono convinto anche perché dicono ogni volta che uno dei loro antagonisti diciamo partendo da Trump parlando anche parlo di Salvini adesso vengono come si dice abbattuti subito i giornali è morto il populismo è morto non c'è più niente il popolo il populismo è finito loro continuano sempre a proclamare queste grandi verità queste cose come se fossero grandi verità non comprendendo che secondo me come hai detto tu la storia a volte agisce come un fiume a volte è in piena a volte il fiume è nascosto cioè le pulsioni che ci sono non è che scompaiono perché va via secondo me un leader o un'altra cosa perché c'è sempre con questo io mi vorrei collegare agli Stati Uniti parlando proprio che secondo me sono un popolo che ci sta insegnando molto nel senso per quanti problemi abbiano all'interno del loro del loro perimetro ecco ad esempio con le elezioni in Virginia hanno mostrato che i democratici che erano così sicuri di vincere hanno preso una bella batosta Kamala Harris sembra completamente incompetente ma non è solo incompetente lei è percepita come incompetente da tutta la cerchia che attorno dagli stessi democratici stanno avvenendo anche tantissime dimissioni all'interno del parlamento del congresso americano ti chiedo che cosa sta succedendo negli Stati Uniti allora hai detto benissimo innanzitutto le istanze dei popoli non finiscono così le idee camminano sulle gambe della gente quindi queste ventate non di populismo come le etichettano loro perché il sistema dell'etichetta l'abbiamo visto prima è fatto apposta ma io le definirei ventate di patriotismo quel sentire dei popoli che non può finire così all'improvviso ripeto il loro piano sicuramente non farà una buona fine però noi se avremo la forza di resistere e dovremo resistere loro saranno destinati a perdere noi abbiamo già vinto abbiamo già vinto perché innanzitutto stiamo combattendo dal lato giusto della storia quindi indipendentemente dal risultato finale se io lo vedrò non lo vedrò per me è già una vittoria perché sono felice orgoglioso di combattere da questo lato della storia e dal lato della verità quindi per me già è una vittoria questa io non mi riuscirei proprio a vedere animicamente spiritualmente dall'altra parte quindi sono felicissimo di stare a combattere da questo lato e per me questa è già una vittoria tutto quello che riesco a guadagnare giorno per giorno è come dire è una conquista in più quindi l'America sicuramente ci sta buona parte dell'America che sta resistendo e ricordo anche una cosa che comunque buona parte degli Stati Uniti d'America e il popolo americano buona parte è armato quindi lo diciamo dall'inizio non è molto facile lì imporre delle cose se in alcuni stati non la pensano secondo il nuovo ordine mondiale e allora vedi che stanno resistendo stanno resistendo poi anche con le nuove elezioni che si stanno prospettando ma poi vediamo anche Biden Biden è il presidente degli Stati Uniti d'America con il più basso grado cioè percentuale di gradimento di tutta la storia degli Stati Uniti d'America sta intorno al 20 il 22% e nessun presidente degli Stati Uniti d'America ha avuto un gradimento così basso quindi vediamo che diciamo loro mirano a portare avanti i loro piani ma non è non è semplice nemmeno per loro e perché poi sono destinati a fallire come hanno sempre fallito nella storia il male assoluto ha sempre fallito per il semplice fatto che il male ha un'intelligenza cancerogena la definisco io è autodistruttiva è come il cancro si autodistrugge perché fra di loro anche sono come degli squali squalo grande mangia squalo piccolo non hanno empatia non hanno fantasia non hanno un'anima ecco perché sono destinati sempre periodicamente anche nei millenni a scomparire e a morire è sempre così non c'è non c'è stato verso tenendo presente che questo comunque non è un normale periodo storico ma come l'ho definito dal primo momento è un periodo epocale epocale dove la storia prenderà ha preso un bivio e cambierà totalmente periodo storico può essere la rivoluzione francese la prima guerra mondiale le rivoluzioni industriali tutti i periodi storici sono stati un altro periodo epocale dico sempre è stata la venuta di Gesù Cristo ha diviso la storia in prima di Cristo e dopo Cristo quindi dire che non è un periodo epocale quello come dire che questo non è un periodo epocale sarebbe una come dire una grossa leggerezza quindi non capire il periodo che stiamo vivendo è grave è grave che si ricade nell'inconsapevolezza ecco perché grazie a Dio tanti di noi hanno preso coscienza di ciò che sta accadendo e abbiamo preso coscienza dell'importanza del periodo storico in cui stiamo vivendo avendo capito l'importanza tutti noi stiamo agendo in un determinato modo che non è certo quello del ragazzo che con superficialità mentre fa benzina dice me ne vado lì e poi vado in pizzeria poi vado lì sai come se nulla si sta accadendo capito infatti un altro viviamo in due mondi diversi ma oramai il mondo si è spaccato viviamo in mondi totalmente diversi le maschere sono cadute totalmente sia dei potenti che anche delle persone che ci stavano vicino a noi e io dico sempre alle mie manifestazioni oppure ai miei incontri è un periodo bellissimo pure sto incontrando gente fantastica gente che magari ti conosci per la prima volta in una sera e ti sembra di conoscerti da una vita perché vibriamo alla stessa e sembra di andare in perfetta sintonia ma secondo te faccio l'ultima domanda perché mi è venuto in mente quando dicevi l'evenuta di Gesù Cristo duemila anni fa mi viene in mente che nelle sacre scritture c'è anche scritto mille non più mille quindi potrebbe non lo so secondo te non è che questo tutto questi ostacoli che stiamo vivendo ora ostacoli alla libertà la libertà è anche la possibilità non è fare solo quello che vogliamo ma è poter esprimere quello che abbiamo poter esprimere 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 il nostro potenziale e poter essere liberi di farlo questa io credo che sia la libertà e anche perché loro invece la loro libertà è un'altra prima era fai quello che vuoi fai come vuoi quindi è venuto fuori il disastro che c'è tu non pensi che tutto quello che stiamo vivendo sia lì per al fine che affinché noi riusciamo poi a fare questo come lo dice proprio Meluzzi di cui tu hai parlato all'inizio questo balzo quantico ma sicuramente tutto questo tutto questo ha a questo scopo è sicuro cioè questo periodo di sofferenza ci serve anche a noi per avere come dire un'evoluzione interiore cioè questo è scontato io lo insegno anche ai miei ragazzi quando devono salire sul ring che devono andare a combattere dico se tu vuoi vincere devi soffrire cioè chi ha la capacità di alzare la soglia del dolore chi ha la capacità di sopportare il dolore dell'allenamento la quotidianità spostare appunto i suoi limiti e più più ha capacità di soffrire più ha possibilità di vincere magari un incontro è chiaro e quindi come dire dopo ogni travaglio c'è sempre la nuova nascita di una nuova vita quindi questo periodo di sofferenza sicuramente è funzionale a questo non c'è dubbio su questo beh come la madre che per per partorire deve entrare deve averle doglie deve soffrire e poi dopo dà dalla luce la vita no? come hai detto tu sì sì assolutamente è così e quindi come dire noi dobbiamo viverlo con questa vivere questo periodo con questa consapevolezza e quindi questa consapevolezza ci permette di riuscire a sopportare anche le le avversità più gravi che ci possono venire ci possono mettere davanti io poi dico sempre ripeto nelle mie sale a chi mi ascolta per portare avanti questa battaglia io non posso dire a nessuno dovete fare come me perché ripeto poi è una battaglia fondamentalmente singola questa e io dico sempre cosa siete disposti a perdere per portare avanti questa battaglia c'è chi magari mollerà prima c'è chi dopo chi resisterà fino alla fine ecco perché poi è un percorso individuale questo sicuramente indubbiamente è così però questo ci aiuterà ripeto ad evolverci certo guarda hai dato un messaggio molto bello alla fine quando hai detto anche mi ha colpito quando hai detto che ai tuoi ragazzi che alleni credo hai detto che chi riesce a soffrire di più chi riesce a porre il proprio limite oltre è quello è colui che riuscirà poi dopo a farcele magari a vincere anche gli incontri anche perché poi da questo punto di vista come spiego anche nel mio libro scontro globale nella nella battaglia spirituale io in effetti lì quando parlo di questi signori tra virgolette i geni del male di queste persone che fanno queste cose veramente cattive io non li identifico mai come il nemico l'ho sempre identificato come l'avversario come quando sali sul hai il tuo avversario davanti perché l'avversario ha un ruolo fondamentale nella nostra vita e nella nostra evoluzione anche spirituale è quella che mette a nudo le tue debolezze cioè se io ad esempio sto combattendo contro il mio avversario e lui mi tira un calcio in faccia oppure mi tira un pugno l'errore non è stato suo cioè non è che posso dirgli ti sei comportato male no l'errore è stato mio che non sono riuscito a gestire la sua azione abbassando la guardia non riuscendo a schivare il colpo e quindi mi toccherà migliorare il mio allenamento per riuscire a evitare i suoi colpi quindi l'avversario è colui che mette a nudo le nostre debolezze è colui che ci stimola attraverso poi che cosa una legge universale che esiste appunto nell'universo che è quella del libero arbitrio tutti noi siamo anime incarnate che siamo qui ad agire e a mettere le nostre azioni in questo pianeta scuola e come lo possiamo fare solo se abbiamo davanti a noi una scelta e la scelta può arrivare solo esclusivamente attraverso il libero arbitrio libero arbitrio che deve avere necessariamente due opzioni o il male o il bene o la luce o l'oscurità ecco perché tutto l'universo fondamentalmente è dualistico sin dal momento della sua creazione allora io con queste parole ti ringrazio molto per questa bella intervista che ci hai rilasciato ti faccio un'ultima domanda dove i nostri lettori e il nostro pubblico dove possono trovare i tuoi lavori le tue cose grazie di cuore anche per questa ulteriore domanda perché per me è l'unica fonte di guadagno che ho nel senso che oramai faccio questo come attività principale allora quello che vi rilascio ora è il mio blog www.cosimonsaro.com lì troverete anche il mio numero di telefono se volete mi scrivete anzi la cosa migliore scrivi un messaggio su whatsapp e niente nel momento in cui lo ordinate direttamente da me mi aiutate ad autofinanziarmi quindi di solito poi ho un contatto diretto con tutti i miei lettori e ogni libro che parte diciamo da me dalla mia scrivania parte ogni libro parte con una dedica specifica al lettore che l'ha acquistato certo metteremo poi tutto anche nel box sotto il video e anche sul blog quindi chi leggerà i domani l'introduzione a questa intervista sul blog troverà tutti i tuoi riferimenti assolutamente io ti voglio ringraziare molto e ti auguro una buona serata ciao grazie di cuore Simone saluto di nuovo te e tutti coloro che avranno il piacere di ascoltarci grazie di cuore per avermi invitato un abbraccio a tutti ciao ciao grazie ciao 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 ciao